Appropriatezza, sostenibilità, diritti dei malati. Sono tutti temi cruciali quando si parla di farmaci oncologici innovativi, in particolare quelli immunoterapici. Ne parliamo con il professor Francesco De Lorenzo, che su questo argomento ha tenuto un'interessante relazione in occasione del convegno Immunoterapia dei Tumori, Attualità e Prospettive, tenutosi oggi a Milano. Professore, una delle parole chiave della relazione che lei ha tenuto oggi a questo importante convegno è appropriatezza. Come ottenerle? Quali sono a suo parere le sacche di inappropriatezza che attualmente sono presenti nel nostro sistema sanitario nazionale? L'appropriatezza ovviamente riguarda prima di tutto il modo di curare un malato in forma appropriata, ma riguarda anche come utilizzare gli strumenti terapeutici appropriatamente. Noi sappiamo che in Italia, per esempio, esistono tantissimi centri di chirurgia oncologica che hanno un volume di casi trattati molto limitati. In tutta Italia ci sono numeri elevatissimi che vanno al 20-25% dei centri di oncologia chirurgica che operano da 1 a 10 casi di tumore al colon o di tumore alla mammella. Questi reparti devono essere chiusi sia per salvare la vita di tanti malati che hanno un elevato rischio chirurgico e un limitato risultato favorevole e dall'altra parte concentrano e accentrano nei centri di eccellenza in modo tale da risparmiare e dare il meglio dell'assistenza possibile. Così come, per esempio, sappiamo che muoiono ancora nei reparti per acuti il 20-25% dei malati di cancro che invece dovrebbero avere un'assistenza adeguata, domiciliare e hospice. Queste cose vanno cambiate per risparmiare risorse e per dare migliori servizi. La seconda parola chiave è sostenibilità. Come garantirla? Le associazioni dei malati e i malati stessi sono molto interessati a fare in modo tale che le risorse siano in grado di rispondere a tutte le esigenze dei malati. Oggi sappiamo che l'Italia ha un buon servizio sanitario nazionale, però sappiamo che soprattutto i malati cronici, quelli che affrontano grandi malattie, hanno difficoltà ad avere adeguate forme di assistenza. Per cui bisogna superare il principio di dare tutto al tutto. In particolare, quello che noi sosteniamo è che bisogna fare in modo tale che le risorse che vengono di fatto utilizzate per sistemi assistenziali superati vengano eliminate per destinare, ricollocare quelle risorse per servizi innovativi, più moderni, che rispondono all'esigenza dei malati. Se non si fa quest'operazione e si continua a spendere per strutture e per servizi che non sono più necessari, non si può ovviamente tener conto di rispondere alle moderne terapie che sono quelle a cui i malati guardano con maggior interesse. Ecco, quindi quando si parla di sostenibilità e proprietà in genere il pensiero corre subito ai farmaci, però come già lei ci accennava, questi termini non si applicano solo ai farmaci. Per i farmaci è ancora più delicato il meccanismo, perché ora con i farmaci innovativi se non si fa una somministrazione adeguata non si perdono solo poche risorse, ma se ne perdono tante e l'appropriatezza è fondamentale per questo. Però noi diciamo che oggi gli stessi malati devono farsi carico, le associazioni dei malati, cercare di educare i familiari dei malati, che bisogna puntare a utilizzare i farmaci innovativi soprattutto per quei malati che trattati con questi farmaci possono guarire o comunque avere lunghe remissioni, anche in questo modo giustificando l'accesso a farmaci ad alti prezzi, perché in questo caso ovviamente si ha un risparmio che va calcolato, perché se un farmaco per esempio usato per il melanoma, per il tumore a polmone, consente lunghe remissioni o guarigione, c'è un risparmio in termini di ospedalizzazioni, di altri trattamenti farmacologici costosi, di ritorno al lavoro e tutta questa valutazione va fatta, perché solo così si può giustificare l'alto prezzo del farmaco. Dall'altro lato sappiamo che ci sono farmaci innovativi, anche molto costosi, che determinano un aumento della sopravvivenza di un mese, due mesi e in questi casi noi diciamo che con una qualità della vita non adeguata questi farmaci non devono essere utilizzati, perché sono farmaci sostanzialmente non utilizzati adeguatamente in interesse dei malati. Colliberare le risorse significa anche sostenere l'innovazione? Certamente sì, noi dobbiamo considerare che per sostenere l'innovazione bisogna cambiare e riteniamo che la cosa più importante per garantire il diritto ai malati di accedere a tutte le terapie più adeguate per poterli curare bene è quello di fare in modo tale che i farmaci innovativi vengono dati immediatamente, in particolare per l'immuno-oncologia. Se un farmaco viene registrato con ritardo, siccome la risposta si ha dopo 3-4 mesi, se un malato in fase avanzata non ha il tempo di avere gli effetti positivi del farmaco che viene somministrato in ritardo, si perde questa opportunità. Quindi io credo che noi dobbiamo puntare a modernizzare il sistema per ricollocare le risorse e garantire a tutti, soprattutto ai malati di cancro che oggi hanno finalmente dei farmaci che possono curarli e guarirli, il diritto a poter accedere. Quale ruolo dovrebbe avere l'associazione dei pazienti nei tavoli di negoziazione AIFA di questi farmaci innovativi? L'associazione dei malati ha già realizzato importanti strumenti legislativi per cercare di rispondere alla necessità di garantire a tutti i malati, ovunque essi risiedono in Italia, tempi uguali per accedere ai farmaci innovativi. Noi sappiamo che in alcune regioni possono passare anche 6-7 mesi rispetto ad altre in cui, nel momento in cui il farmaco viene riconosciuto per il rimborso, ne passano solo due. Per modificare questo atteggiamento noi abbiamo fatto approvare una legge al Parlamento che obbliga l'AIFA a accelerare le procedure, ma soprattutto una volta determinato il rimborso dei farmaci innovativi, automaticamente rendere accessibile il farmaco ai malati in tutte le regioni senza passare attraverso un altro filtro delle regioni che sono i prontuari regionali. Purtroppo questa legge non è stata applicata perché l'AIFA ha dato attraverso un criterio molto restrittivo di innovazione soltanto la possibilità di utilizzare questa legge a pochissimi farmaci. Quindi noi abbiamo già fatto e dobbiamo fare molto di più, ma soprattutto l'Italia dovrebbe prendere l'esempio anche dagli altri paesi anglosassoni. In Inghilterra i malati di cacco sono presenti nel NICE, che è l'organizzazione che approva i farmaci, e fanno parte dell'HTA. In Italia invece c'è una chiusura totale dell'AIFA rispetto al diritto dei malati di collaborare non nella definizione dell'approvazione, ma nel far capire quanto è importante per il malato un farmaco che dia una qualità della vita migliore in termini anche di ritorno al lavoro durante il trattamento. Questa chiusura credo che però durerà ancora poco. Grazie a tutti.